Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se c'è svolghi per un momento, aprirai. Lui è fattore, io una volta è schiavo in società, di noi, di noi, figa. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. E' un'eduita specializzata, fa il compagno e vedrà, che non ti permutti ai. Noi sopiamo male, che non sbagliamo mai, noi sempre nos puntare di tua igualità. E' anche solo quattro momenti, e ti iscriviamo con corso, per la... Ce l'è brinca. Non vedi che un vero affare, non perdere l'occavione, se no poi te ne mentirai. Ma capita tutti i giorni, di avere due consulenti, due, i tre sali, che si fanno quattro per te. E' un'ordine, di avere due consulenti, due, i migliori in questo campo è un normale contratto, una formalità. E' un'ordine, di avere due consulenti, due, i migliori in questo campo è un'ordine. E' un'ordine, di avere due consulenti, due, i migliori in questo campo è un'ordine. E' un'ordine, di avere due consulenti, due, i migliori in questo campo è un'ordine. Grazie. Grazie. Grazie.